Salve a tutti, sono Antonio di EasyBlock e sono qui quest'oggi per presentare la nostra linea antifurti per scooter. EasyBlock è un antifurto meccanico che viene installato direttamente sul veicolo e è sempre con noi quando parcheggiamo. Qual è il vantaggio principale? Il vantaggio principale è che non dobbiamo più portarci dietro catene, blocca disco, sporcci le mani ogni volta che parcheggiamo. Quindi come funziona il prodotto? EasyBlock è installato sul retrotreno del veicolo e si attiva con una forte pressione del piede e va a bloccare la ruota posteriore. Stessa cosa dove invece di agire sulla ruota andiamo a bloccare il disco freni. Quindi come abbiamo visto il prodotto è estremamente facile da utilizzare e questa caratteristica torna particolarmente utile specialmente quando ci si ferma per pochi minuti come quando si va al bar o per esempio al supermercato e spesso si lascia la moto scoperta, non sicura perché non si ha il tempo di attivare un blocca disco o di utilizzare una catena. Quindi cosa succede quando vogliamo ripartire e torniamo alla nostra moto? Beh, EasyBlock è anche davvero semplice da disinserire. Con l'apposita chiave basterà abbassarsi per pochi secondi, disattivare l'antifurto e grazie al sistema a molla torna indietro verso noi e ritorniamo subito in moto. Stessa cosa per il modello per l'SH dove l'antifurto è posizionato al di sotto della marmitta. Quindi signori è un antifurto dalla praticità unica specialmente utile se si utilizza il veicolo in ambiente urbano. Per qualunque domanda commentate sotto il video o contattarci su uno dei nostri canali social o tramite il sito web. Siamo qui a vostra disposizione e un saluto da EasyBlock.